Grazie a Francescato, che ruolo hanno i cambiamenti climatici nei flussi dei profughi che sempre più copiosi fuggono dalle loro terre in cerca di fortuna nei paesi più benestanti? Purtroppo è enorme. Noi ci dobbiamo ficcare in testa che il cambiamento climatico non è un problema ambientale soltanto, è un problema geopolitico di primaria grandezza, il che significa che ha conseguenze sociali enormi. Una di queste sono proprio i profughi climatici. Pensate che si parla di cifre tremende, vertiginose, 250 milioni di persone al mondo nelle prossime decadi. Ma già avviene, perché per esempio è vero che dalla Siria abbiamo avuto un flusso di profughi perché c'era la guerra, ma è anche vero che questo flusso è stato molto più intenso e numeroso nelle zone che sono state interessate da una terribile siccità dal 2011 in poi. Grazie.